Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di Calcio Mercato dedicato all'Udinese a quello che è il suo secondo colpo ufficiale per questa finestra di mercato estiva e che ufficialmente aprirà il primo di luglio ma che comunque non preclude alle squadre di essere già attive e il primo colpo ufficiale è quello di Zemura dal Bormout trovate sul mio canale il video con l'analisi tecnica del colpo con tutte le considerazioni economiche, tattiche e quant'altro sul giocatore oggi parliamo di Brenner, attaccante che arriva dal Cincinnati è un trasferimento per certi versi storico ma ne parleremo in questo video parliamo dell'operazione dal punto di vista economico quindi costi, contratto che ha firmato il giocatore con l'Udinese quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e tattiche quindi dove può giocare nel 3-5-2 di Sottile se il suo acquisto lascia intravedere una possibile partenza di qualcun altro in quella zona del campo come può ambientarsi nel nostro campionato qualche chicca fantacalcistica per gli appassionati di questo gioco insomma tutto quello che c'è da dire sull'operazione cominciamo con i costi allora, il trasferimento di Brenner è storico appunto faccio riferimento poc'anzi perché è il trasferimento più oneroso di sempre dal campionato americano quindi dalla MLS, la Major League Soccer alla Serie A il giocatore è costato senza bonus, senza niente come cifra diciamo fissa come quota fissa 10 milioni di euro quindi l'Udinese ha pagato, ha versato nelle casse del Cincinnati 10 milioni di euro non sono riuscito a trovare informazioni ufficiali su quello che è lo stipendio che percepirà il giocatore brasiliano all'Udinese quindi lasciamo aperta diciamo questa finestra se qualche tifoso dell'Udinese ha informazioni a riguardo magari lo scriva nei commenti così completiamo il quadro mentre per la lunghezza del contratto ho trovato informazioni ufficiali il giocatore ha firmato con l'Udinese un contratto quinquennale che lo legherà appunto alla squadra di Pozzo fino al 30 giugno 2028 quindi un acquisto comunque anche per il futuro anche perché il ragazzo è un classe 2000 quindi non è giovanissimo però è un giocatore che ha ancora tantissimi anni davanti a sé che è nel pieno della carriera a proposito di carriera parliamo della sua carriera che è abbastanza breve il giocatore è cresciuto nelle giovanili nel bivaglio del San Paolo ha fatto un anno in prestito alla Fluminense dove si è messo in mostra e quando è tornato al San Paolo nel 2019 è tornato per fare il titolare ecco che ha sfornato prestazioni importanti tanto da convincere il Cincinnati che è una delle principali squadre della Major League Soccer a investire ben 12 milioni su di lui quindi il giocatore già due anni fa aveva smosso cifre importanti Cincinnati ha pagato 12 milioni per portarlo in America nel 2020 la sua prima stagione non è stata esaltante diciamo ha avuto dei problemi di ambientamento nel campionato americano ma l'anno scorso nella stagione 2022 ha fatto invece perché in America il campionato cioè la stagione non è a metà anno insomma non è girandata in un anno e girandata nell'altro ma è un anno intero nella stagione del 2022 Cincinnati ha trovato la sua stagione più prolifica dal punto di vista realizzativo la più importante ha stiglato 18 reti e si è messo particolarmente in mostra tanto da attirare l'interesse anche di squadre europee lo ha visto e lo ha preso l'Udinese appunto per 10 milioni in questa stagione in Major League Soccer siamo alla 17esima giornata tra l'altro il Cincinnati è primo in classifica ha superato il Nashville ha giocato poco perché si è infortunato al piede è tuttora infortunato ha giocato mi sembra 7 partite 8 partite ha segnato solamente un gol però insomma la stagione tanto in Italia inizia fra due mesi e mezzo quindi ha tutto il tempo per poter recuperare e fare la preparazione estiva con l'Udinese andiamo alle caratteristiche tecniche del giocatore allora il giocatore partiamo da un'informazione abbastanza importante che è quella fisica cioè il giocatore è basso è 1,75 che per il calcio moderno dove sono tutti degli stangoni non dico che sei un nano però sei basso quindi è un giocatore che sicuramente non fa della fisicità il suo punto di riferimento perché tu puoi essere basso ma essere tonico invece lui no è un giocatore molto più molto più più basato sulla tecnica incentrato sulla tecnica sullo scatto anche in profondità cioè un giocatore che ha altre caratteristiche che in Brasile paragonano molto a Gabriel Jesus l'attuale attaccante dell'Arsenal per caratteristiche proprio per caratteristiche tecniche quindi infatti Brenner io lo vedo molto più come una seconda punta non è proprio un centravanti puro può giocare anche da 9 che non è falso 9 è da 9 perché comunque ha il fiuto del gol è un giocatore che sa essere cinico davanti alla porta attacca bene la profondità sul filo del fuorigioco ha questi movimenti a dettare il filtrante ai compagni quindi non è uno che se messo centravanti va in difficoltà però secondo me le sue caratteristiche diciamo possono emergere se schierato come seconda punta quindi ad appoggio a un centravanti magari un centravanti boa anche uno che ti fa un pochino più di sponda di sfondamento che attira la concentrazione dei centrali è un giocatore più di qualità tra le linee più vicino a essere un trequartista una sottopunta che una punta centrale secondo me per caratteristiche tant'è che se vi andate a vedere queste sono per farvi capire quali sono le fonti diciamo dove io poi vado a trovarmi le mie le mie informazioni quelle che poi vi porto nei miei video se andate a vedere sul sito di SofaScore la mappatura del giocatore del suo campionato dell'anno scorso del 2022 vedrete che lui generalmente tende a solcare la trequarti cioè un giocatore che tocca tanti palloni sulla trequarti quindi non è uno che naviga nell'area di rigore e che attende il pallone ma è uno che scende sulla linea della trequarti per chiamare il pallone e gestirlo lui quindi un giocatore bravo a giocare a due tocchi è un giocatore che fa gli stop orientati per cercare di far saltare la marcatura è un giocatore che si va proprio a mettere tra le linee per poter incidere per poter fluidificare la manovra per poter anche inventare non è un assist man nato però è un giocatore che che ha anche la visione di gioco diciamo se vogliamo confrontarlo con un giocatore del nostro campionato è simile come proprio come modo di approcciare la gara come modo di giocare è simile a Lukman dell'Atalanta ecco è quel tipo di giocatore quindi è un giocatore che all'Udinese secondo me ci sta benissimo nel 3-5-2 di Sottil è la seconda punta perfetta quindi io non lo vedo come alcuni l'hanno descritto come il vice Beto o il sostituto di Beto qualora il portoghese dovesse essere ceduto no io penso che che Brenner sia arrivato per fare la spalla di Beto e non il suo sostituto quindi quello che in partenza era Deulofeu che in realtà in quel ruolo è un adattato perché Deulofeu di natura è un esterno è un esterno d'attacco a sinistra no è un giocatore che ha sempre giocato in quella zona di campo poi all'Udinese per necessità tattica è stato riadattato a seconda punta ecco Brenner di natura è una seconda punta proprio le movenze della seconda punta è un giocatore che si esalta tra le linee è un giocatore che cerca il dialogo con i compagni quindi è un giocatore che ha anche la tecnica e l'altruismo per poter giocare in quel ruolo lì cosa che ad esempio Deulofeu non ha Deulofeu è molto più egoista e molto più solista e quindi quando lo vai a schierare come sottopunta come seconda punta spesso ti va a spegnere l'inerzia dell'azione offensiva perché è troppo innamorato del pallone Brenner non è così quindi secondo me è un acquisto che dal punto di vista tattico dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e fisiche va benissimo per l'udinese perché è idoneo a quello che Sottir cerca come seconda punta quindi ci sta benissimo come acquisto poi è oneroso 10 milioni per un giocatore che arriva dall'altra parte del mondo in un campionato sicuramente di qualità inferiore dove ci sono abitudini diverse anche sul ritmo della partita del pressing cioè la zona di campo dove generalmente opera Brenner in Italia è molto densa perché è la tre quarti difensiva molte squadre la riempiono ci sono i mediani che tendono a intercettare le linee di passaggio a attaccarsi all'uomo cioè non è semplice come in America poter agire in quella zona di campo per cui è un acquisto che comunque porta con sé un tasso di rischio non trascurabile perché l'ambientamento di un brasiliano abituato a giocare in America in Italia non è scontato assolutamente non è scontato però l'udinese in questi anni ci ha sempre abituato a sapere aspettare i propri calciatori lo ha fatto anche con quelli che poi sono esplosi penso ad Allan ad esempio che l'udinese ha saputo ad aspettare così come De Paul che i primi due anni era un giocatore quasi inguardabile l'udinese lo ha atteso è una squadra che sta facendo la stessa cosa con Samarzic che non lo sta caricando di responsabilità facendolo giocare titolare inamovibile ma lo sta lo sta gestendo per farlo crescere anche in consapevolezza l'udinese è una squadra che forse è anche complice delle pressioni diciamo non altissime della piazza si può permettere di aspettare giocatori dal grandissimo potenziale senza farli schiacciare dalle pressioni della prestazione del risultato quindi un Brenner che ha le qualità per poter emergere nel nostro campionato e per poter fare benissimo nel sistema di gioco dell'udinese in una realtà calcistica come quella dell'udinese ha comunque anche il tempo di poter sbagliare di poter essere atteso di poter integrarsi anche nella cultura italiana non solo calcistica ma proprio anche sociale quindi è un acquisto da udinese è un acquisto da udinese perché non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma anche dal punto di vista proprio ambientale e di e di appunto ambientamento nel nostro calcio è sicuramente la piazza giusta per lui quindi io penso che sia un acquisto mirato un acquisto che ci può stare ovviamente questo acquisto comporta la cessione di qualcuno io penso che l'udinese non ripartirà la prossima stagione sia con Deulofeo che con Beto e detto questo come ho detto prima per me Brenner non può fare le rede di Beto perché Beto è un centravanti puro mentre mentre Brenner secondo me è una seconda punta può fare le rede di Deulofeo ma è ovvio che se tu parti con Deulofeo ceduto e con Brenner e Success devi dare la possibilità a Brenner di ambientarsi perché rischi di bruciarlo un giocatore che arriva dall'altra parte del mondo infortunato perché tra l'altro infortunato è da vedere la gravità dell'infortunio al piede che lo sta tenendo fermo da un po' se riuscirà a fare la preparazione perché se Brenner dovesse addirittura saltare la preparazione estiva come fai a inserirlo pronti via così quindi bisognerà vedere insomma il mercato dell'udinese perché il mercato dell'udinese è sempre molto curioso perché va a prendere giocatori da campionati esotici va a prendere giocatori che vengono dall'altra parte del mondo e poi magari si ritrova a dover adattare calciatori esperti del nostro campionato per poter dare loro il tempo di ambientarsi e poi magari fra un anno si ritrovano un gioiellino loro sono fatti così e quindi anche Brenner diciamo che rispecchia queste caratteristiche c'è la possibilità che ci sia il Watford di mezzo ma sicuramente il Watford e l'udinese sono due realtà calcistiche a stretto contatto avendo il presidente in comune basti pensare allo scandaloso acquisto di Assane Camara che è un giocatore del Watford di proprietà del Watford e l'ha acquistato dal Nizza per 4 milioni l'udinese lo ha acquistato dal Watford per 19 per poi lasciarlo in prestito al Watford cioè l'udinese che paga 19 milioni un calciatore nemmeno se lo porta in casa ed è un giocatore di 30 anni quindi non si sta parlando di una promessa un terzino di 30 anni che sembra essere stato acquistato e lasciato al Watford per pareggiare i conti ma di operazioni tra il Watford e l'udinese ce ne sono state tantissime Trostecong Ken Sema e Coombs sono veramente tanti i calciatori Deulofeu stesso tanti giocatori che masina che rimbalzano da una squadra all'altra io non credo che Brenner però faccia parte di questa triangolazione cioè credo che Brenner sia stato preso all'udinese per giocare nell'udinese non per poi essere girato al Watford o cose di questo tipo penso sinceramente che che il colpo sia diciamo a sé stante ecco per l'udinese fatto dall'udinese per l'udinese e quali sono le sue caratteristiche tecniche allora è ambidestro o almeno dicono di no cioè se uno va a vedere diciamo le caratteristiche del giocatore si dice che sia un giocatore di piede destro però in realtà ha una qualità di calcio sul piede sinistro che secondo me lo rende molto più ambidestro di tanti altri calciatori che magari si spacciano come tali perché se vai a vedere anche i gol che ha segnato l'anno scorso mi sembra un 50 e 50 l'ha segnato in metà di destra e in metà di sinistra una cosa del genere perché ha un bel tiro anche da fuori area di sinistro è un giocatore che da fuori area è pericoloso ed è giusto che sia così è normale che sia così perché tende come dicevo prima ad agire su altre quarti quindi ha bisogno di avere di incutere timore dai 20-25 metri agli avversari perché se lui non avesse il tiro da fuori area uno si concentrerebbe soltanto sulle linee di passaggio invece avendo anche la soluzione a fuori area diventa un giocatore un pochino più difficile da contrastare ovviamente non è bravo di testa non è bravo nel gioco aereo anche perché la statura non lo aiuta e questo ci mancherebbe come dicevo è molto bravo ad attaccare la profondità sul filo del fuorigioco non è un contropiedista perché non è veloce non è un velocista clamoroso però è un giocatore che proprio dal punto di vista dell'intelligenza tattica è molto sviluppato perché trova sempre lo spazio per poter essere pericoloso sia con la palla che senza palla e tanti suoi goal proprio nascono da dei movimenti senza palla a dettare il passaggio ai compagni per poi smarcarsi e trovarsi da solo davanti al portiere e questi movimenti contrariamente a quanto si possa pensare secondo me possono essere tranquillamente letali anche in Italia perché in Italia tendiamo a marcare a uomo molte squadre hanno le marcature a uomo soprattutto quelle che giocano con la difesa a tre e quindi se tu sei un giocatore molto mobile molto dinamico porti via per il campo il difensore avversario e quindi crei spazi ai compagni ma se sei bravo a scappargli alle spalle addirittura ti crei lo spazio per te stesso e quindi è un giocatore che secondo me grazie al suo dinamismo grazie alla sua esplosività proprio atletica può tranquillamente fare bene nel nostro campionato e può essere pericoloso poi è un giocatore da doppia cifra non sicuramente la sua prima stagione cioè mi sorprenderei se Brenner segnasse 12 gol al suo primo anno in Serie A e nella stagione prossima cioè sarebbe un impatto sorprendente sicuramente però è un giocatore che potenzialmente lo può fare però è un giocatore secondo me più tattico piuttosto che concreto la stagione dell'anno scorso da 18 gol non deve illudere che sia un bomber perché non sarebbe nemmeno giusto pretendere da lui numeri così elevati è un giocatore che tende più a far gioco e visto quali sono le mezzali attualmente all'udinese cioè Samarzic e Lovric che sono mezzali Lovric è proprio un incursore di quelli proprio puri un giocatore che si inserisce che cerca un frattesi dell'est ecco per intenderci e Samarzic è un giocatore che magari è più pericoloso dalla lunga distanza perché ha un gran sinistro però anche lui è un giocatore che tende a cercare la porta magari più dalla lunga cittata ma è un giocatore che tende a cercare la porta quindi Brenner secondo me nell'economia di gioco dell'udinese va più considerato come un giocatore di utilità che apre gli spazi agli inserimenti dei centrocampisti alle sovrapposizioni degli esterni piuttosto che un giocatore che deve lui stesso concretizzare ecco ed è un giocatore che fa comodo come del resto è molto utile è molto sottovalutato secondo me nell'udinese success è sottovalutato perché segna poco molto poco e anche dal punto di vista degli assist non è che ne fa 18 a campionato può arrivare in doppia cibo mi sembra quest'anno ne ha fatti 8 una cosa del genere però è un giocatore di un'utilità mostruosa cioè nell'economia di gioco dell'udinese apre una quantità di spazi success impressionante poi rispetto a Brenner success ha una fisicità che è clamorosamente superiore cioè un giocatore ben piazzato dal punto di vista muscolare Brenner è molto più 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 leggerino però io vedo Brenner come un potenziale upgrade di success ecco cioè un giocatore più più tecnico più intelligente e anche più concreto di quanto non sia success ma lo vedo più come un suo miglioramento nell'economia di gioco dell'udinese non come un giocatore da gol perché è stato descritto come giocatore che fa tanti gol no secondo me i gol li deve fare qualcun altro non lui è un acquisto sicuramente oneroso a dimostrazione che l'udinese comunque nelle sue ultime operazioni di mercato anche zemura che arriva a parametro zero però un giocatore a quell'udinese ha dato 800 mila euro netti di ingaggio cioè l'udinese sta facendo comunque investimenti o dal punto di vista dei cartellini o dal punto di vista degli stipendi che comunque dimostrano che la squadra punta su alcuni elementi cioè al contrario del passato dove magari andava a prendere giocatori a cifre bassissime e faceva scommesse in questo caso sembrano magari scommesse per chi non conosce il calcio in maniera approfondita per gente come me per gente come il tifoso normale standard però in realtà sono colpi che sono frutto di mesi e mesi e mesi di scouting e di studio approfondito del calciatore perché gli investimenti sono importanti e infatti poi quasi sempre i giocatori comprati dall'udinese entrano nel giro dei titolari non vengono mai presi per fare numero ecco quindi io penso che Brenner giocherà titolare il prossimo anno giocherà titolare e poi ovviamente bisognerà vedere chi andrà via io penso verrà ceduto Deulofeu che tra l'altro quest'anno ha avuto un infortunio particolarmente grave però penso verrà ceduto Deulofeu e si punterà molto di più su Brenner e poi bisognerà vedere cosa succederà con Beto che sembra avere mercato cosa succederà con Success se un giocatore su quello di Nese ha intenzione di puntare anche per la prossima stagione bisogna vedere un po' di cose perché sono tanti giocatori diciamo anche Lovric Samarzic Neuem Perez sono tanti giocatori dell'Udinese che attirano l'interesse di molte squadre anche all'estero quindi bisognerà vedere però secondo me Brenner non arriva all'Udinese per fare la comparsa non arriva all'Udinese per essere poi girato al Watford arriva all'Udinese per giocare titolare o comunque per essere un giocatore che farà le sue tante presenze il prossimo anno io credo che sia un giocatore che può ambientarsi bene nel nostro calcio avrà bisogno di un po' di tempo non credo che sia un'ambientazione rapida poi dipenderà molto dall'assorbimento dell'infortunio se potrà fare la preparazione atletica estiva con sottillo o meno quello sicuramente accelererebbe molto i tempi di ambientamento nel nostro campionato però io penso che il giocatore intorno a ottobre possa essere una risorsa importante per l'Udinese che ha speso forse troppo ecco forse ha speso troppo però evidentemente ci punta su questo calciatore ci punta ci crede e quindi è anche giusto fare investimenti di questo tipo e che che voto vado a dare all'operazione ma io direi che do un 6 e mezzo un 6 e mezzo di riassunto diciamo tutto quello che ho detto nel video perché secondo me economicamente è costato un po' troppo perché c'è la grande incognita dell'ambientamento nel nostro campionato che non credo sia pericolosissimo perché per caratteristiche tecniche tattiche e mentali secondo me il giocatore si predispone bene a giocare nel nostro campionato però comunque è un giocatore che non ha mai giocato al di fuori dell'America quindi bisogna comunque vedere insomma c'è questa 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 variabile non indifferente e poi è un giocatore che per caratteristiche può fare bene ma bisogna vedere se l'Udinese lo ha preso per farlo giocare centro avanti o meno se l'ha preso per farlo giocare centro avanti nella prospettiva di vendere Beto secondo me un acquisto è insufficiente perché non è un giocatore che ti porta i numeri che ti deve portare un centro avanti non è un giocatore che ha la fisicità per poter far salire la squadra in quelle partite in cui l'Udinese soffre e quindi se è stato preso per fare il centro avanti non è un acquisto sufficiente se è stato preso per fare la sottopunta la seconda punta a orbitare attorno a un centro avanti allora è un acquisto sicuramente valido non me la sento di dare qualcosa di più rispetto al 6,5 perché non è un crack secondo me non è quel calciatore che poi diventa il fenomeno che l'Udinese venderà a 35 milioni secondo me non è quel tipo di profilo è un buon giocatore che può fare magari anche tanti anni all'Udinese che può far bene ma non benissimo non mi aspetto da Brenner l'esplosione di altri calciatori che sono stati all'Udinese in questi anni che poi sono andati in top team europei quindi non mi aspetto da Brenner quel tipo di esplosione e a livello fantacalcistico sicuramente il giocatore verrà listato attaccante seconda punta insomma nei fantacalci di tutta Italia di tutte le redazioni è un acquisto che ci può stare come quinto o sesto slot secondo me non deve essere preso come riferimento però è una scommessa intrigante poi ovviamente dipenderà dalle regole dei fantacalci a cui giocate se sono i classici fantacalci che gioca al 90% della popolazione italiana dove alla fine l'importante è il gol chi fa più gol vince le prestazioni i voti gli assist un contano un cazzo conta solo il gol Brenner diventa un giocatore secondo me non particolarmente invitante se invece avete dei fantacalci con dei modificatori magari giocate al mantra quindi ci sono dei vincoli un pochino più importanti nei ruoli e cose di questo tipo può essere invece una scommessa interessante però tanto dipenderà dal mercato perché se l'udinese clamorosamente dovesse partire con Beto e Deolofeu oppure dovesse andare ad acquistare altri giocatori che magari in partenza nelle gerarchie stanno sopra si sta parlando di una riserva se invece un Deolofeu dovesse essere ceduto e Brenner partisse diciamo in concomitanza con Saxes per giocarsi in posto titolare può anche essere un quarto slot secondo me il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questo colpo di mercato di questa operazione se sapete lo stipendio che andrà a percepire per favore scrivetelo così completiamo diciamo il quadro informativo se siete d'accordo o no con quello che ho detto insomma scrivete tutto quello che volete colpi ufficiali in questo mercato ne è arrivato uno oggi cioè quello di Awar alla Roma che in realtà sembrava già fatto da un po' però io aspetto sempre l'ufficialità proprio netta per poter portare il video con l'analisi tecnica di mercato quindi il prossimo video di mercato che porterò sul canale sarà su Awar della Roma però stasera si giocherà la partita tra Verona e Spezia quindi la priorità la diamo a quella partita lì purtroppo c'è in contemporanea anche il ritorno del playoff della finale playoff di serie B tra Bari e Cagliari preferisco guardare Verona e Spezia ma mi dispiace non vedere Bari e Cagliari perché è una partita che ero interessato a cui ero interessato magari la recupero e la guarderò indifferita detto questo finita la partita tra Verona e Spezia porterò il video pagellone della serie A con le considerazioni sulle squadre di serie A e poi cominceremo con il mercato quindi colpi ufficiali di mercato ma anche i miei fantamercati quindi i mercati ideali delle 20 squadre di serie A del prossimo anno con tutti i colpi esotici che io mi vado a inventare ci vediamo dunque ai prossimi video iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi e un caro saluto a tutti ciao ciao